Perché tutte le volte ti sputtani per nulla? No, non parlo più, inizia a autocensurarmi Da quando Bichi Mantovani si autocensura? Da adesso, da questo momento, sì, assolutamente sì Ho parlato fin troppo Beh vabbè, prima però dicevamo, essenzialmente è una cosa importante Che te sei arrivata qua sperando di menare le mani e invece no Perché alla fine non è andata così Perché? Cos'è successo? Bichi gira Bichi gira e non Bichi Mena Perché? Che è successo? Cioè sei arrivata e l'avversaria era... C'era l'altra ragazza un pochino insicura che probabilmente aveva... Aveva? Era poco convinta Ah ok Allora la terza ammunizione Ah la terza ammunizione? Perché sei entrata troppo dura? Non mi sembra Secondo loro Così hanno detto non mi sembra Ok E cosa ha fatto un po' di frigna? No, 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 lei non ha detto assolutamente niente Ah ok, sono gli altri che ti hanno detto No, no, è stato l'arbitro che mi ha richiamato due volte e alla terza... E te questo ti ha fatto girare un po' le palle? No, vabbè Però vediamo innanzitutto la vasellina ancora in faccia che dicevamo... Sì, perché potevo fare a meno di mettere visto che tanto... Che era più che altro sul naso, eh? Anche sul naso, no, primi piani del naso non ne voglio Non si sa, non è una cosa carina Non è una cosa carina Prima abbiamo visto l'altro ragazzo, quello di Sipio Che ha un gran nasone perché gli hanno fatto un intervento così Dobbiamo parlarne Dobbiamo parlarne Profilo Profilo, vediamo da questo lato No, primi piani del naso non si fanno Perché il naso vi ha fatto sboggiare Nel senso che era talmente grande No Talmente grande che si sono dovuti spostare loro E allora, vabbè, è stato un pochino deludente questo incontro per te Speravi un pochettino di più Sì, speravo un po' di più ma per potermi allenare un pochettino anch'io Eh, ma infatti... Preferivo meno facile Meno facile, ok Vabbè, ma il tuo prossimo incontro che cos'è? Non lo so, si dice qualcosa ma non è ancora confermato e non dico niente Ma tipo di? No, no, non dico niente Ah, non dici niente No, no, vabbè, di kick Sempre di kick? Sì Ok, e gli allenamenti di MMA come procedono? Sempre Il tuo coach celotto? Quando sarò pronta, non so mai Il coach celotto è contento? Il coach celotto si diventa sempre, non è mai contento Si diventa sempre Mai Ho mai sentito contento Vabbè, è sempre così, ti fa sempre un po' il ma... Critico, sempre critico Eh, soprattutto sul naso o anche su altre parti del corpo Cioè nel senso, qual è la parte che lui ti critica di più? No, non lo so Del corpo nel senso dell'intervento sportivo, insomma Non lo so Guardia bassa, fegato scoperto Soprattutto guardia bassa e fegato scoperto? E il fatto che salto Non va bene? Non così tanto, probabilmente Ma infatti io, come sono arrivato? Teri già lì Hai visto una Ecco, eroio, mi hai riconosciuto da quello Detta salterina, sostanzialmente Ah, canguro è il tuo Peggio Il tuo soprannome? No, non esattamente, però me lo dicono Beh, perché già insomma, già chiamandoti Biki Già c'hai insomma il vantaggio Un po' come me che mi chiamo Lapo, no? Nessuno mi dà il soprannome che magari vorrebbero Ma ormai mi chiamo già Lapo Ognuno ha la sua dose già Inutile infierire Va bene, ma insomma il prossimo incontro non ce lo vuoi dire Però ci puoi dire No, non lo dico perché non è confermato Non si sa Vediamo come va adesso Ci si allena, ci si prepara Vediamo cosa salta fuori Vediamo cosa salta fuori Però l'idea è quella di menare stavolta Poi lo devo fare Va bene, allora oggi l'abbiamo incontrata in versione un pochettino più sportiva Per cui un pochettino più autocensurata Mentre invece nelle uscite serali l'abbiamo vista No Un pochettino più Un po' più scatenata Le uscite serali non si nominano Non si nominano No, no, no Siccome c'è qui il suo coach Allora è diventata Non si può Tutto un tratto è diventata l'atleta super seria Giusto, giusto Ah brava, ok Ci vediamo dopo Ciao Ciao Ciao